Ora uno spettacolo di beneficenza, ci spostiamo a Mottola. Seguono in casa per una sorta di maledizione. Prima dell'apertura del sipario è stato presentato il costume popolare motolese realizzato dal presidente costumista del gruppo folk Maria Lattarulo su indicazioni storiche del professor Vito Fumarola. Il ricavato delle due serate sarà utilizzato per acquistare beni di prima necessità da devolvere ad alcune famiglie bisognose di Mottola. Gli altri anni la nostra solidarietà è andata verso altre città, altre situazioni, però quest'anno abbiamo potuto dedicare al nostro territorio, proprio a Mottola, devolvendo il ricavato ad alcune famiglie bisognose e mottolesi sotto forma beni di prima necessità. La commedia è un momento di risveglio delle nostre tradizioni, del nostro passato, della nostra memoria, in compagnia del gruppo folkloristico Mottola Fnod, che da questo punto di vista è sempre molto attivo e molto presente.